Assemblea annuale della consulta nazionale anti-usura a Roma nei giorni scorsi. Monsignor Alberto Durso ha dichiarato un anno intenso lavoro contro l'usura, ma purtroppo nel silenzio, nell'assenza e nella indifferenza delle istituzioni e della stampa. Il nostro servizio. Per la consulta nazionale anti-usura si è chiuso un anno di intenso lavoro, di contrasto contro un fenomeno criminale che uccide le persone in totale solitudine. Si rileva purtroppo il silenzio, l'assenza e l'indifferenza da parte di alcune istituzioni politiche e civili e di una certa stampa. Abbiamo alle spalle 22 anni di storia e di servizio nei confronti delle persone e delle famiglie che ci incoraggiano a proseguire lungo questo percorso di conversione economica, sociale e umana di quanti hanno fatto dell'usura alla propria ragione di vita e di tante persone la cui vita è stata fagocitata dai debiti. Non ci stancheremo di ricercare con paziente e determinazione il dialogo. Se non lo facessimo tradiremo la nostra missione. L'usura è un fenomeno sommerso che riguarda tutti, società, istituzioni e l'intero sistema economico. Nessuno può chiamarsi fuori. È l'appello del presidente della consulta nazionale anti-usura, Monsignor Alberto D'Urso, in occasione dell'assemblea annuale della consulta nazionale anti-usura che si è tenuta ieri a Roma. A parlare, come sempre, sono i numeri. Lo scorso anno 6.911 persone si sono rivolte agli sportelli delle fondazioni anti-usura. Nello stesso periodo finanziate 906 richieste d'aiuto con 22 milioni di fondi statali. Nella ultraventennale attività hanno incontrato 116.091 persone e famiglie, finanziato 19.318 domande per oltre 392 milioni di euro. Ma Monsignor Alberto D'Urso ha sottolineato che le dimensioni, l'ampiezza della domanda e dell'offerta dell'usura, che è un mostro più teste, sono indefinibili. E nella perseverante crisi economica si è manifestata tutta la sua complessità che la consulta si appresta a studiare e approfondire. Il numero delle denunce presentate dalle vittime, infatti, è solo la punta dell'iceberg. Lo scorso anno il Comitato anti-racket e anti-usura del Viminale ha esaminato 2.122 posizioni, di cui 537 per estorsione, 1.585 per usura. La consulta nazionale ha evidenziato che il 46,6% delle persone che bussano alle porte delle proprie associate si è indebitato a causa dell'azzardo. Ha visto nella dia bendata, cioè la soluzione al falimento aziendale, a un licenziamento, a un divorzio. Domenico Cuttaia, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, ha invitato le istituzioni a far rete per dar risposte sempre più stringenti alle vittime. La legge 108 del 1996 presenta delle gravi lacune costituzionali. Sostiene solo gli imprenditori lasciando fuori dagli aiuti pubblici le famiglie e i lavoratori disoccupati. Bisogna creare sinergie per fare in modo che il fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e il fondo di solidarietà previsti dalla legge 108 non restino due realtà distinti, ha detto Cuttaia. Maurizio Fiasco, consulente della consulta nazionale anti-usura, ha sottolineato come ci sia una tendenza al negazionismo rispetto alle problematiche legate all'usura, poi ha messo in luce la difficoltà di un elevato numero di famiglie a causa dei debiti. Nel 2016 una famiglia su 20 ha visto il proprio immobile finire all'asta. Si tratta di un dato sociale che indica la sofferenza delle persone rispetto a un bene primario come la casa. Secondo Fiasco, l'esclusione sociale legata al debito riguarda anche famiglie del ceto medio e imprese, creando così una vera e propria emergenza sociale. Di coscienza e possibilità di riscatto ha parlato Monsignor Luigi Renna, vescovo di Cerignola a Scolizzatriano. La condanna dell'usura è un elemento costante, ha detto, che troviamo dalle Sacre Scritture a oggi nel Magistero. Per l'usura il Catechismo della Chiesa Cattolica, ha concluso, richiama il quinto comandamento, non uccidere perché l'usura uccide.